Buongiorno a tutti, dovremo essere live. Grazie mille per essere qui stamattina, parleremo come sapete di HR Tech e di Chatbot nello specifico. Cominciamo subito senza perdere tempo lasciando la parola a Ivan Fadini che è il nostro Business Innovation Director di tutto il gruppo Manpower che vi comincerà a raccontare un pochettino qualcosa su questo mondo bellissimo del chatbot. Vai Ivan. Grazie mille Giuseppe e grazie a tutti i partecipanti per essere con noi stamattina. Allora magari passa pure alla prima slide Giuseppe cortesemente. La scaletta se vogliamo della chiacchierata di stamattina toccherà due punti principali. Il primo punto che è quello che tratterò in primis io è quello legato a quella che è la tecnologia se vogliamo dei chiamati quelli che sono chiamati virtual assistant cioè i famosi chatbot con un focus particolare su quello che vedremo tra un secondo quello che noi riteniamo essere particolarmente significativo nella realizzazione dei chatbot. La seconda parte invece della chiacchierata sarà una possibile tra le n potenziali verticalizzazione di questi famosi chatbot che sarà pensata con una con un esempio che vi racconterà poi Giuseppe nel mondo specifico diciamo della dell'HR. Vai pure sulla prossima slide Giuseppe cortesemente che cominciamo a entrare un po' nel nel merito della prima parte che vi dicevo quindi quello che secondo noi quindi secondo experience dovrebbe essere il focus e l'attenzione rivolta a quelli che sono i temi delle interfacce conversazionali. Non a caso le chiamo interfacce conversazionali che è un altro nome in qualche maniera che possiamo dare ai virtual assistant o ai chatbot. Perché stresso il termine conversazione? Per qualche esempio che vi ho riportato che ho cercato di riportare in questa slide. Il tema numero uno è alla fine che cosa cercano i nostri clienti, prospect, colleghi, candidati a seconda di quello che è il nostro core business, chiamiamoli pure utenti in generale, quando decidono in qualche maniera di interagire con un'azienda, con un brand, con una corporate, con enterprise eccetera eccetera. Tendenzialmente nella maggior parte dei casi quello che cercano è una semplicissima risposta a una domanda che loro hanno in mente, a un dubbio che hanno quindi un chiarimento eccetera e con questo in mente quello che si sta notando sempre più spesso diciamo nel corso degli ultimi anni sempre di più è che quelli che sono chiamiamoli digital asset tradizionali in qualche maniera stentano a indirizzare questa esigenza. Perché? Perché immaginiamoci la fatica che può fare un utente medio nel cercare una risposta a una sua domanda navigando su un sito o andando su un social network o cercando di interpretare quelle mail che gli potrebbero effettivamente arrivare in virtù del fatto che sei iscritto a questo o quell'altro servizio. Peraltro se anche si riesce in qualche maniera ad arrivare in fondo a questo processo e ad aver trovato la risposta a quella famosa esigenza, il feeling in qualche maniera che rimane al nostro al nostro utente dopo questa esperienza è che tutto ciò è avvenuto in un modo molto impersonale perché comunque ce lo possiamo tranquillamente dire il sito è lo stesso per tutti a meno di minime personalizzazioni che possono essere fatte con questo quel motore di customizzazione e quindi questa impersonalità mettiamo la così idea dei contenuti ancora di più allontana in qualche maniera l'utente il potenziale utente da quello che potrebbe essere effettivamente una connessione molto più molto più stretta molto più marcata con il brand che in ultima analisi è quello che vogliamo quindi punto a favore diciamo di quello che potrebbe essere invece un approccio molto più personalizzato peraltro 24 per 7 quindi costantemente disponibile verso l'aspetto di conversazione tema numero due ho messo diciamo una un'immagine che dovrebbe essere abbastanza clarificatrice nel senso che ho cercato noi indietro indietro giusto perdonami sempre quella precedente tutte questi volti tutti questi volti tutte queste persone diciamo che riempiono se vogliamo diverse diverse generazioni che stanno facendo una cosa assolutamente naturale che vediamo sempre più spesso succedere ovvero chattare quindi usare la più comune probabilmente applicazione che hanno sul loro smartphone che è whatsapp o qualcosa di analogo allora lasciatemelo dire con con una battuta che dovrebbe essere abbastanza esplicativa mia suocera usa whatsapp che cosa vuol dire è abbastanza improbabile che una persona fondamentalmente di una certa generazione vada a navigare su un sito vada a vedere un social network interagisca magari con delle mail eccetera ma è assolutamente probabile proprio perché si appoggia a un qualche cosa che per quanto ci riguarda è assolutamente naturale fare che prende male un telefono per scambiare un messaggio con un nipote con con un parente con un conoscente e perché no anche con un brand quindi dovesse essere effettivamente che c'è un interesse verso un certo brand perché non usare la stessa modalità naturale che noi utilizziamo per parlare con il resto dei nostri chiamiamoli pari last but not least sempre su questa slide un altro perché perché ci fa ritenere la conversazione già fondamentale oggi e sempre di più in futuro è l'evoluzione costante verso le interfacce vocali quindi già qualche anno fa parlavamo col telefono abbiamo cominciato a parlare anche con l'orologio poi abbiamo cominciato qua non non si vede l'immagine ma immagino che lo sappiate comunque tutti a parlare con i dispositivi da salotto quindi google home piuttosto che non gli amazon eco e via discorrendo e negli ultimi mesi sempre di più stiamo cominciando a parlare anche con l'auto ora adesso siamo in una fase abbastanza embrionale in cui di fatto l'interlocuzione che abbiamo con questi dispositivi è dimmi che tempo fa fuori oppure metti mi questa o quell'altra canzone dobbiamo però immaginarci che sempre di più diciamo questa possibilità che ci viene data di usare la voce nell'interagire con la macchina ci spingerà ad usarla ancora una volta nella maniera in cui naturalmente la usiamo tutti i giorni quindi con l'idea di non doverci instupidire mettiamola così e scusatemi la parola un pochino estrema soltanto perché stiamo parlando con un computer che riteniamo essere meno intelligenti di noi gira pure slide giuseppe se questo è il perché mettiamola così riteniamo che la conversazione importante c'è anche un riflesso sul come riteniamo che questa conversazione debba essere in qualche maniera gestita qua ci sono molte regole che non vi anticipo regole logiche regole naturali ancora una volta che vedrete poi con con giuseppe quando quando commenterà diciamo quello che abbiamo realizzato fino ad oggi però il concetto di fondo è nel realizzare un chatbot bisogna stare molto attenti a come effettivamente si gestisce quello che è non la chiamiamo la user driven conversation cioè l'esigenza che sta dall'altra parte non è mai il chatbot che ha un qualche cosa da raccontare è sempre l'utente che ha un qualche cosa da chiedere questo cambiamento se vogliamo questa focalizzazione sulla giusta direzione che la conversazione deve avere secondo noi è assolutamente fondamentale alcuni esempi guardate in alto a destra nella nella slide che state vedendo il famoso discorso dei pulsanti quindi il chatbot può mettere dei pulsanti a video in modo tale che l'utente li possa selezionare ci mancherebbe altro fermo restando che su alcuni canali vedi whatsapp non c'è questa possibilità quindi i pulsanti in whatsapp ad oggi ancora non esistono quindi teniamolo intanto presente quando immaginiamo di fare un chatbot su quel canale però il discorso di poterli mettere i pulsanti non deve mai significare che l'unica cosa che potrà fare l'utente è cliccare su questi pulsanti ok e invece spesso e volentieri purtroppo noi vediamo che molti chatbot hanno questa pretesa se io ti ho chiesto qualcosa io pretendo che tu mi risponda soltanto nella modalità che io ti ho chiesto altrimenti tornerò a dire scusatemi sono giovane sto imparando porta pazienza se vuoi ti giro al mio collega eccetera eccetera purtroppo non funziona come non funziona il fatto che per l'utente sarà sempre naturale quello di dirti non solo una cosa ma due tre assieme guardate l'esempio in mezzo voglio prenotare un hotel e voglio farlo per tre notti e la domanda che subito dopo il chatbot fa per quante notti te l'ho appena detto cioè questo genere di scivoloni mettiamola così purtroppo producono all'interno della testa se vogliamo del nostro del nostro interlocutore del nostro utente del nostro prospect cliente candidato collega un'esperienza che invece di essere positiva è addirittura frustrante e quindi rischia di essere non l'inizio di una bellissima avventura ma alla fine di un dialogo con con noi con il nostro brand e questa cosa ovviamente non possiamo minimamente accettarla gira pure sull'ultima slide e se abbiamo detto del perché è fondamentale dal nostro punto di vista focalizzarci sul concetto di conversazione e come quindi con quali regole la conversazione deve avvenire indipendentemente dal fatto che avviene tra due utenti o un utente e un virtual assistant quello che rimane poi in fondo è il cosa ovvero che cosa serve per realizzare effettivamente questo genere di approccio che ripeto è fondamentalmente in prima battuta una questione di approccio alla conversazione quello che serve è fondamentalmente gli algoritmi famosi chiamati di natural language processing di cui ovviamente ne pieno il mondo per l'amor del cielo ce ne sono n mila flavor e non ce n'è uno tendenzialmente che sia migliore dell'altro ma sopra questi algoritmi fondamentale il poter davvero creare qualche cosa che possa chiamiamola implementare queste regole naturali di conversazione e consentire così di gestire nel modo più possibile e qua prendo un po spunto dalla dalla slide che avete sotto gli occhi adesso nel modo più umano possibile la conversazione indipendentemente dal fatto che dall'altra parte c'è un chatbot perché ancora una volta la dico con un altro slogan che mi viene forse più semplice non è mai una questione di non fallire all'interno di una conversazione perché anche tra umani mettiamola così ci può stare uno scivolone all'interno della conversazione ma è sempre una questione di fallire il più possibile elegantemente io la dico un po in questi termini e magari chiudo con un esempio per poi passare la parola a giuseppe mettiamo il caso che il nostro chatbot alla lunga della nostra conversazione quindi dopo n scambi arriva un momento in cui si troverà davvero a dire mi dispiace non ho capito ci sono fondamentalmente due modi almeno due modi per poter gestire questa situazione modo numero uno è guarda mi spiace non ho capito sono giovane sto imparando porta pazienza se vuoi ti passo a un collega oppure modalità numero due perdonami non ho capito l'ultima cosa che mi hai chiesto ma qualche secondo fa stavamo parlando di questo argomento ti va di tornarci ora è comunque un fallimento però spero catturiate la fondamentale differenza che è quello di aver dimostrato quantomeno di aver fatto uno sforzo di ascoltare il famoso ascolto attento mettiamola così la precedente parte della conversazione e provare a riavviarla partendo da un punto che sia il più safe possibile magari non funziona sia chiaro magari l'utente dirà comunque guarda non capisci niente non mi puoi aiutare a rivederci grazie però l'importante secondo me è cercare sempre costantemente di far capire all'utente che ci può essere questa conversazione ok lascio a te la parola giuseppe grazie a tutti grazie Ivan per questa presentazione io sono giuseppe stivaletta responsabile chartec per Experis Manpower Group volevo dare giusto qualche informazione operativa per tutti quanti potete mandare delle domande nella nella parte Q&A vi risponderemo alla fine risponderemo ad alcune domande ma a livello di processo a tutti quanti verranno mandate queste slide il link al webinar registrato e risponderemo a tutte le domande che non riusciremo a rispondere oggi in modo da poter essere anche un po più più completi diciamo nel livello di servizio quindi non preoccupatevi riguardo al materiale vi verrà inviato tutto partiamo subito con perché parlare di chatbot nel mondo e charra cioè chatbot l'assistente virtuale come vogliamo intenderlo è uno strumento ormai ben noto e utilizzato da diverse società a un livello più basso a livello più alto al mondo nel mondo e char si sta facendo negli ultimi tempi sicuramente uno strumento che è utile in diverse aree nella parte char non lo vediamo in due precise la parte di recruiting non tanto al sostituzione dell'attività di recruiting ma a supporto dell'attività di recruiting e nella parte di employee engagement dalla parte di induction onboarding e la parte di sviluppo è uno strumento fantastico per automatizzare i processi può risparmiare tempo può far risparmiare risorse e può dare anche dati ovviamente conversazionali in questo caso su cui poter fare delle analisi e poter eventualmente intervenire in modalità preventiva o strutturale dal punto di vista strategico delle risorse umane è molto utile nella fase per esempio di informativa per i neoassunti tutte le aziende sono molto complesse e abbiamo magari dei portali aziendali con tantissime informazioni delle facca aziendali delle common questions magari nascoste nei meandri del sito avere uno strumento che facilmente ci dà accesso a tutte queste informazioni è statisticamente dimostrato che aumenta la produttività ma non tanto nel giorno dei day by day ma velocizza diciamo la produttività la presa di produttiva dei nuovi neoassunti migliora l'employee experience sia durante l'attività diciamo di induction quindi quando le persone hanno bisogno di quelle informazioni per poter partire quindi informazioni per esempio legate all'organigramma piuttosto che a chi sono le persone che deve incontrare nella fase di induction qual è il processo di induction gli strumenti eccetera eccetera ma anche nella fase per esempio di sviluppo perché possono essere fatte delle sarde possono essere fatti diciamo può essere utilizzato anche come uno strumento di analisi di clima per esempio piuttosto che per i percorsi di sviluppo quindi aiutare la persona nel percorso di sviluppo del training path definito con il manager o con le char questo aumenta la retention aumentare la retention una dei uno dei temi più difficili ad oggi perché la retention è un outcome non è mai una strategia e l'outcome deriva da diversi passaggi uno di questi è sicuramente quello di supportare le persone a livello informativo e a livello di ascolto anche da parte delle char dell'azienda e un chatbot assolutamente uno strumento che appunto h24 può fare questa cosa migliora anche l'engagement l'engagement sia in fase di attraction soprattutto per profili per esempio particolari come possono essere quelli di haiti dove si può essere si possono inserire degli assessment o si possono fare dei challenge e si possono mandare tutte quelle informazioni che normalmente la persona vorrebbe sapere sull'azienda e che se ha la fortuna di parlare con un recruiter può chiedere altrimenti non ce l'ha ricordiamoci sempre che nel mondo delle della selezione 99 persone su 100 non sono ricontattate per questione ovviamente di tempo e di praticità uno strumento come questo può dare ascolto e risposte a tutte quelle persone aumentando in modo significativo l'ultimo punto l'employer branding e non è una cosa da poco perché io che ormai sono tantissimi anni che mi sono occupato mi occupo di selezione di ed hunting da ogni punto di vista vi dico che dare il feedback alle persone è una diventata una cosa fortunatamente ormai accettata da tutti ma dare feedback a tutti quelli a cui non si può per questione di tempo ad oggi non riesce a farlo praticamente nessuno un chatbot potrebbe arrivare a fare anche questo quindi migliorare significativamente sia l'experience di chi si candida ma anche di chi non si candida che porta ovviamente poi un volano positivo per per tutta l'azienda tipologie di assistenti virtuali qui faccio un passaggio velocissimo nel senso che ce ne sono davvero diversi in una scala di grigi è molto molto diversificata questo vuole soltanto un po farvi comprendere qual è il nostro approccio vi racconto un pochettino del primo modello quello un po più semplice il button based che il modello tipico che ognuno di voi ha sicuramente incontrato per esempio quando si trova con un centralino telefonico che gli dice premi uno se vuoi fare questa cosa premi due se vuoi fare quest'altra riportata su una chat diciamo su un sito piuttosto che appunto su un sistema di chat tipo whatsapp potrebbero essere appunto dei pulsanti dei bottoni e senza la possibilità di andare a scrivere nulla quindi è un sistema molto semplice molto diciamo da questo punto di vista efficace per quel poco che deve fare molto poco conversazionale molto poco ingaggiante un secondo livello è quello che comincia a comprendere le domande o comunque l'interazione che l'utente può dare e sul tema specifico può rispondere dando delle informazioni precise ma tendenzialmente molto statiche molto predeterminate può essere molto utile faccio un esempio magari per rispondere a tutto quello che può essere il mondo delle facca aziendali piuttosto delle common questions ma sicuramente non nel momento in cui vorremmo fare interagire il nostro software con altre piattaforme come per esempio il calendario di outlook piuttosto che il sistema paghe o cose di questo tipo l'ultimo livello che quello diciamo ad oggi più voluto è quello che ha in dentro l'intelligenza artificiale il machine learning in particolare il natural language processing questo non solo alza il livello dell'interlocuzione potendo al cercare cercando di essere il più possibile naturale come può essere in una conversazione tra umani essendo anche proattivo dando delle opportunità diverse di percorsi durante l'interlocuzione o ritornando a parlare dei temi lasciati indietro ma permette anche tutta una serie di interazioni con quelli che possono essere altre piattaforme infatti quasi comincia a parlare anche di di cai quindi commercial artificial intelligence platform vado avanti a parlare un po della nostra soluzione la nostra soluzione esattamente questa una soluzione omni channel basata su un sistema conversazionale incapace di ascoltare in maniera attiva di proporre eventuali assessment sistemi di gamification tutto quello che tra virgolette magari c'è già in azienda o se non c'è si può cogliere l'occasione in un disegno di un nuovo processo di inserirlo comprende qualunque tipo di linguaggio a cui noi lo addestriamo e comprende anche gli errori nel senso nel momento in cui andiamo inserire del tecnicismi o dei parori delle parole particolari lui comunque riesce a comprendere se ci sono degli errori e li ignora rispondendo correttamente alla alla domanda può rispondere a domande multiple complesse dopo lo vedremo anzi subito dopo questo slide partiamo subito con il video piuttosto che mantenere la memoria conversazionale si integra con qualunque tipo di piattaforma e soprattutto l'esperienza rimane unica possiamo assolutamente dire che messo su whatsapp piuttosto che su teams stesso sulla chat di teams o su facebook sulla chat di facebook non importa dove qualunque tipo di percorso può essere poi gestito attraverso il chatbot nel momento in cui non si riesce più a gestire ci saranno link esterni o si rimanda eventualmente un operatore ove previsto e ove interessa diciamo la tua azienda avere un tipo di interfaccia di questo tipo puoi prendere anche autonomamente degli appuntamenti per esempio vediamo nella fase di induction quando una persona deve incontrare 5 o 6 persone dell'azienda può incrociare tranquillamente i calendari e proporre degli incontri e fissarli in modo autonomo quindi da questo punto di vista la soluzione è molto flessibile e si adatta molto a quello che sono necessità aziendali cominciamo con il video questo video è assolutamente in anteprima nel senso che non lo abbiamo ancora sponsorizzato lo abbiamo tenuto a posto per questo webinar poi come detto vi verrà mandato ma lo troverete poi anche in giro perché lo cominceremo a pubblicizzare interromperò il video e vi parlerò delle varie funzionalità volta per volta cominciamo qui a destra potete vedere un esempio un esempio di interfaccia del nostro chatbot non è necessario che sia che sia di questo tipo dal punto di vista grafico si può scegliere assolutamente quello che si vuole subito potete vedere il chatbot abbiamo fatto un esempio inizio da delle opzioni quindi dei pulsanti però ovviamente li abbiamo ignorati giusto per far vedere che comunque anche se potevo cliccare sul pulsante lo ignoro abbiamo messo un tempo di latenza di cinque secondi dopo il quale il chatbot diventa proattivo e in questo caso per la sua prova proattività chiede se si può dare del tuo quindi immaginate due percorsi differenti di conversazione uno con il tuo non con il lei lui può gestirli tranquillamente entrambi la persona a questo punto in una fase diciamo di ricerca attiva di lavoro può chiedere appunto che riguardo a un post su internet ovviamente chatbot come farebbe anche un operatore approfondisce quindi cerca qualche informazione in più abbiamo messo una domanda un po provocatoria ricordi libri del post però tendenzialmente è una domanda che anche noi umani facciamo non così magari nel dettaglio però magari chiediamo se ricordano il nome esatto della posizione piuttosto che la risposta non potrà mai essere precisa meno che la persona non ce l'ha davanti in quel momento o non riesce a mandarci il link sarà comunque una risposta generica come per esempio era come java developer in questo caso scusate in questo caso la persona avrebbe potuto rispondere qualunque cosa java developer programmatore java programmatore basta nel momento in cui avesse scritto programmatore basta gli avrebbe chiesto ovviamente la tecnologia subito dopo come diciamo è logico gli chiede in quale città ovviamente la persona vuole andare diciamo a lavorare qui interviene una delle diciamo risposte più complicate che possiamo immaginare per un chatbot come vedete abbiamo fatto abbiamo inserito ben tre tipo di tre sedi diverse bergamo varesi milano che in realtà per un chatbot sono tre domande diverse il nostro chatbot non si scoraggia e riesce a rispondere a tutte e tre per agevolare la simulazione abbiamo messo semplicemente che nelle prime due non c'è non c'è diciamo non ha trovato nulla e che nell'ultima propone delle posizioni immaginiamo per esempio un'azienda che abbia sede a milano sede a varese ma non a bergamo la risposta si poteva essere mi dispiace ma su bergamo non abbiamo una sede quindi non ci sarà mai una posizione di questo tipo e magari a varese c'è la sede però in questo momento non ci sono quelle posizioni quindi la risposta potrebbe essere abbiamo la sede a varese ma in questo momento non abbiamo posizioni aperte mentre su milano abbiamo queste posizioni quindi dal punto di vista conversazionale la risposta è ovviamente customizzata su quello che è poi l'esperienza che l'azienda vuol far passare andando avanti facciamo intervenire l'interlocutore dicendo che magari non vuole lavorare per una delle società o magari non vuole ricoprire quel ruolo piuttosto che diciamo al punto di vista di filtro lui è in grado di comprendere e di filtrare quello che può essere della scelta di filtro di customizzazione da parte dell'utente a quel punto è possibile proseguire diciamo nell'interlocuzione approfittando approfondendo oppure come diciamo in questo caso andiamo a esplorare altre situazioni qui gli chiediamo di fare un test vedete diciamo dal punto di vista grafico come si esprime diciamo con dei pulsantoni piuttosto che delle faccine quindi immaginate un assessment light che possa essere comunque di ingaggio e di gamification questo assessment può essere tranquillamente interrotto facendo altre domande per esempio appunto su come è strutturato il processo di selezione il chat bot è sempre in grado di rispondere alle domande che gli si fanno mantenendo la memoria conversazionale cosa significa che ovviamente ti risponde alla domanda che gli fai ma poi ti ripropone di tornare al topic precedente per poterlo chiudere come ricordate adesso ci sono due topic aperti perché c'è il topic relativo al questionario e il topic relativo alla candidatura in questo caso lui ti propone di chiudere il questionario chiuso il questionario ti ripropone invece di parlare della candidatura ed esattamente qui dove dove dice torniamo a parlare del post che cercavi quindi come in una conversazione reale il chat bot riesce a essere proattivo proponendoti come per esempio abbiamo visto un test un assessment piuttosto che ascoltandoti e mantenendo la conversazione attiva e la memoria conversazionale attiva nel momento in cui poi si volesse andare avanti ad approfondire si possono inserire per esempio dei link esterni come in questo caso oppure informazioni specifiche dell'id potevamo metterci anche il job post dipende anche da quanto è lungo ovviamente se è un post molto lungo conviene sicuramente che l'esperienza vada su un altro canale nel momento in cui invece il job post è abbastanza corto può essere inserito potrebbe essere inserito anche un abstract del job post e poi rimandarlo al canale completo quindi la scelta anche dell'esperienza della risposta deve essere ovviamente user driven e in questo caso deve poter portare la persona ad essere fluido anche in quello che è la sua esplorazione in uno step successivo chiediamo di fissare un colloquio ora vedremo due modalità una che passa a un operatore per fissare un colloquio cosa che noi per esempio in experience abbiamo già un operatore attivo ovviamente durante le ore di urne con cui poter parlare ma nel momento in cui l'azienda per esempio non lo prevede si può far sì che il chatbot stesso fissi un appuntamento qui potete vedere un esempio di come a sinistra un reale operatore risponde all'utente e l'utente dal punto di vista dell'esperienza non ha alcun modifica è sempre sullo stesso software applicazione che sia e dal suo punto di vista non è cambiato assolutamente nulla nell'esperienza non è dovuto andarsi a registrare da altre parti nel momento in cui invece in quest'altro caso volessimo far prendere appuntamento al chatbot lo abbiamo stressato un pochettino chiedendogli prima tarda mattinata poi se possiamo settimana prossima tendenzialmente lui non si non si preoccupa di quante volte tu voglia cambiare finché non gli dai l'ok nel momento in cui dà l'ok lui è in grado di fissare l'appuntamento quindi queste sono le caratteristiche delle feature che si chiamate tecnicamente del nostro chatbot riassunte come potete vedere sono dedicate in questo momento la parte di smart recruiting come la chiamiamo noi quindi di supporto informativo ed eventualmente di analisi con un piccolo assessment per esempio per i recruiter ma potete tranquillamente immaginare l'utilizzo fatto anche in altre funzioni come per esempio appunto interne all'azienda in fase di onboarding o induction per per esempio fissare degli appuntamenti con i manager da incontrare piuttosto che avere informazioni sulle policy dell'auto delle policy relative al rimborsi spese la nota spese a come si prenotano i viaggi tutte informazioni che sembrano banali perché in azienda da tempo ma perché dentro l'azienda da poco sono tutte informazioni necessarie che in un modo o nell'altro vanno ad appesantire continuamente le persone che gli sono attorno perché non c'è un altro modo veloce per poter accedere è un modo conversazionale il modo più veloce per poter accedere a queste informazioni altrimenti bisognerebbe stare appunto sui siti navigarli sperando che siano diciamo dal punto di vista della user experience molto facilmente navigabili e poter trovare le risposte da soli e doverle anche interpretarle nel nel modo migliore ok adesso lascio la parola a silvia la nostra persona del marketing per qualche domanda diciamo da da trattare nell'immediato dopo di questo andremo diciamo in chiusura ricordo che comunque a valle del dell'evento manderemo tutte le domande manderemo il video manderemo diciamo tutto quello che da questo punto di vista avete avete richiesto le informazioni che voi volete e volete approfondire silvia grazie giuseppe buongiorno a tutti sono arrivate diverse domande giuseppe allora chiedono utilizzando un chatbot non si rischia di dare un feedback a tutti i costi ottenendo comunque malcontento nei candidati dato che non è il recruiter in persona dare il feedback grazie allora questa assolutamente una scelta del disegno da parte dell'azienda nel momento in cui l'azienda non vuole dare feedback ovviamente i feedback non vanno dati nel momento in cui però noi chiediamo al candidato di poter fare darci delle informazioni dobbiamo dare qualcosa indietro questa è un po la logica della gamification piuttosto non vi sarà sicuramente capitato per scaricare un report di Gartner piuttosto che dovete dare i vostri dati la stessa logica nel momento in cui io ti do qualche dato qui ti qualche informazione in più è necessario che tu mi ridia qualcosa altrimenti è sbilanciato il rapporto quindi in quest'ottica il chatbot ovviamente non si arroga il diritto di poter assolutamente giudicare la persona quello che però fa è guidare la persona a dargli delle informazioni specifiche sull'azienda piuttosto che sul ruolo faccio un esempio rispetto a quello che dicevo prima se la persona è di Bergamo e vuole candidarsi su Bergamo per quanto magari l'azienda ha una sede su Bergamo ma magari il suo ruolo è presente solo su Milano o addirittura su Torino quell'informazione può essere data dal chatbot ed è un'informazione che farà comprendere subito alla persona perché non andrà avanti nella selezione cosa che magari non potrebbe mai arrivare ad avere perché il recruiter giustamente non ha il tempo di poter rispondere mi scusi il suo profilo è allineato con quanto ricercato ma in questo momento lo cerchiamo su un'altra sede cosa step successivo in modo proattivo che potrebbe fare è interessato a valutare quella sede e potremmo anche andare approfondire dicendo come gestirebbe il problema della distanza cioè sono tutte cose che noi potremmo diciamo andare a inserire perché nel momento in cui la persona può dare risposte convincenti non ho detto che il recruiter non lo possa considerare spero di aver risposto Silvia un'altra domanda sempre sul feedback ai candidati non mi è chiaro in che modo il bot possa essere utile per il ritorno del feedback ai candidati potrebbe farvi un esempio grazie ok sicuramente quello che un po abbiamo abbiamo appena fatto abbiamo appena detto potrebbe essere un esempio ne faccio per esempio un altro noi possiamo chiedere per esempio di fare un assessment digitale faccio un esempio per i profili IT o anche per i profili normali per esempio i neolaureati dove vogliamo fargli un testament sulle loro capacità digitali gli possiamo dare un ranking uno score e quindi dargli un feedback dicendo per questa posizione chiedevamo un livello ottimo il tuo livello è inferiore rispetto a quello a quello atteso piuttosto che non diciamo confrontarlo necessariamente però dargli quell'output che gli faccia capire il suo livello rispetto a quanto per esempio richiesto potremmo anche spostare il l'esperienza su un'altra piattaforma per esempio noi abbiamo una piattaforma di assessment digitali appunto per gli IT dove ci sono test molto completi di diversi 40 minuti 50 minuti anche un'ora dove la persona essenzialmente viene valutata sulle sue competenze in modo approfondito e lì appunto avrebbe un feedback diretto del perché può andare avanti o del perché non è ancora il momento o non è ancora pronto detto ciò potrebbe essere fatto sulle soft skill ma sulle soft skill ovviamente non possiamo dare delle valutazioni così precise e i test sulle soft skill diciamo sono sempre test abbastanza diciamo che richiedono comunque un operatore quindi funziona molto bene sulle skill hard funziona molto bene su per esempio anche i giovani piuttosto che sulle skill digitali sull'utilizzo degli strumenti digitali piuttosto che gli strumenti aziendali a volte vedo delle posizioni ho visto delle posizioni dove viene richiesta la conoscenza di uno strumento particolare non dico excel perché ormai excel è come l'inglese che è obbligatorio però facciamo un esempio richiedo l'utilizzo di SAP piuttosto che di Workday si potrebbe fare un mini test su quello e quindi dare subito un feedback alla persona rispetto alla propria conoscenza dello strumento magari pensava di conoscerlo bene e magari non è così piuttosto che LinkedIn l'utilizzo di LinkedIn o su il processo qual è il processo più corretto per gestire faccio un esempio una selezione oppure a livello di project management potrebbe essere fatto una domanda richiesta sul processo cioè si possono costruire delle interazioni in grado di poter dare un minimo di risposta che ovviamente non sarà mai esplicativa come quella di un recruiter ma sarà sicuramente migliore rispetto a quello di mando la candidatura e non ho più risposta nel migliore dei casi a un'email che mi dice se non sei stato considerato per questa posizione continua a candidarti Silvia grazie Giuseppe c'è una domanda per entrambi i relatori Ivan ha già risposto in via privata passo a te la parola dice nel futuro quale sarà il futuro dei chatbot e in quali le applicazioni pratiche conosco le applicazioni attuali ma vorrei avere una vostra vision grazie allora dal punto di vista tecnologico l'evoluzione del chatbot non può che andare di pari passo con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale quindi del predictive del predictive analytics del predictive response che cosa significa significa che una volta che verranno utilizzati sempre più da tanti utenti si avranno i dati necessari per poter cominciare a customizzare l'esperienza utente rispetto alle informazioni che vengono date quindi il chatbot sarà in grado di parlare in modo più vicino all'interlocutore rispetto alla classerizzazione dell'interlocutore stesso facciamo un esempio se sul mio sito si va a connettere un ingegnere informatico sicuramente ha una comunicazione e si aspetta delle informazioni diverse rispetto a un addetto alla contabilità il futuro dovrebbe nel momento in cui avremo i dati sufficienti dare gli strumenti a un'intelligenza artificiale per personalizzare l'interazione sempre più e poter anche in modo predittivo dirci che cosa stanno cercando le persone in modo da poter fare delle azioni di marketing per esempio di employer branding o nel caso interno all'azienda di retention quindi cercare di andare a intervenire in modo predittivo su quei fattori che fanno far sì che le persone escono sappiamo benissimo che per esempio sulla parte di retention ci sono costi pazzeschi che le aziende affrontano costi spesso nascosti quando le persone se ne vanno per esempio durante il periodo di prova o durante il primo anno proprio perché magari non c'è stato un ascolto attivo o non sono state diciamo seguite quelle che potrebbero essere diciamo delle accortezze che invece dei dati degli insight ci possono fornire quindi questo credo che sia il futuro più più naturale rispetto all'evoluzione non è una cosa immediata non è una cosa diciamo che avranno sicuramente tutti immediatamente però l'evoluzione dell'intelligenza artificiale ci porterà sempre di più a questo tipo di supporto non immaginiamo in alcun modo almeno io sono assolutamente un scontrario a questo punto di vista la sostituzione per esempio del recruiter con l'intelligenza artificiale ad oggi non esistono strumenti in grado di leggere un cv come lo legge un recruiter e non ce ne saranno perché i cv non sono standardizzati non esistono strumenti in grado di fare un colloquio come lo può fare un recruiter e questa cosa fortunatamente rimarrà ad essere umano dobbiamo sempre vederla nell'ottica dell'ottanta venti dobbiamo cercare lo strumento che ci possa aiutare ad automatizzare quell'ottanta per cento di attività che è automatizzabile e concentrarci sul 20 per cento senza mai sbagliare proprio quell'attività che è unicamente umane sarà umana perché la tecnologia non deve spaventarci deve aiutarci ad essere sempre più efficienti efficienti e in un termine diciamo una buzzword data driven più siamo orientati all'analisi del dato agli insight sul dato e più possiamo essere anche degli interlocutori lato char evoluti per il nostro business che normalmente parla sempre con i numeri silvia c'è qualche altra domanda sì ce ne sono altre grazie giuseppe con quale tecnologia comunica per fissare gli appuntamenti esempio google calendar sì assolutamente google calendar con l'exchange di outlook non col calendar di teams non importa nel senso qualunque api così chiamata quindi qualunque sistema aperto a comunicare può tranquillamente integrarsi in un chatbot dovete immaginarlo come una piattaforma quindi come qualunque piattaforma ad oggi ha dei limiti sicuramente su alcune cose però a livello di integrazione siamo abbastanza diciamo sereni di poter dire che l'integrazione si può fare quasi con tutto dico quasi perché ci sono alcuni produttori alcuni strumenti che non vogliono integrarsi e a quel quindi tendenzialmente il tema è nel momento in cui si può integrare lo si fa nel momento in cui non si può bisogna trovare un percorso il più possibile lean utilizzando un termine diciamo più legato a ai processi per far sì che l'interlocutore non non si distra non si non vada in frustrazione però assolutamente l'integrazione è fattibile con qualunque strumento diciamo che ha delle api aperte così definito silvia in base alla sua esperienza crede che alcune tipologie di aziende rispetto ad altre siano maggiormente predisposte all'utilizzo di questo strumento se sì quali allora sicuramente sì partiamo da un assunto potrebbe essere utile per qualunque azienda media media grande e sicuramente per tutte quelle grandi questo è un assunto perché più ai numeri di persone da gestire e più ai difficoltà nell'interazione nella gestione sicuramente le aziende che hanno grossi volumi di recruiting con un basso livello del personale o con un livello tecnico avanzato quindi come dicevo prima per esempio per i tecnici it piuttosto che nel mondo retail nel mondo gdo sicuramente questi sono i canali principali lato e char lato invece business sicuramente mondo customer care quindi qualunque società che abbia un customer care potrebbe automatizzare e quindi efficientare il processo di customer care attraverso un prodotto di questo tipo io mi sono trovato condiviso anche su linkedin la mia esperienza all'inizio di questo di questa crisi con il covid dove dovevo contattare trenitalia per annullare il biglietto per andare a roma e quel giorno immagino che migliaia centinaia o meno o meno di persone facessero la stessa azione e sono stato diverse ore attaccato al telefono aspettando un interlocutore con cui poter parlare quello è il caso specifico in cui un chat potrebbe aver fatto tutta la differenza del mondo potete immaginare come la gestione con contemporanea di migliaia di domande più o meno tutte uguali che richiedono più o meno tutte le stesse necessità potesse essere tranquillamente automatizzato quindi tutti quelli che hanno degli utenti tanti utenti con cui interloquire sicuramente ne traggono vantaggio anche perché ripeto il fattore differenziale rispetto ad altri strumenti sono anche le analisi successive che si possono fare quindi andare a capire tutte le domande che ci fanno e tutte le informazioni che ci chiedono a cui noi per esempio non abbiamo pensato ritorno nel mondo char nel recruiting noi portiamo avanti quell'un per cento di persone che riusciamo a sentire ma non sappiamo le domande che ci vorrebbero fare l'altro 99 per cento potrebbe essere interessante fare un'analisi su quello e comprendere meglio come migliorare la nostra offerta o la nostra proposition e pro value proposition verso il mercato silva abbiamo ancora qualche minuto un altro paio di domande dovremmo riuscire a farle sì ne abbiamo ricevute veramente tante grazie ti leggo questa che possiamo mandare anche come ultima se si aggiornasse un chatbot con l'aggiunta di un ats sarebbe possibile per lui fare una scrematura dei cv e quindi aiutare ancora di più il ruolo del recruiter nella ricerca non si rischia così di annullare quasi completamente le relazioni umane nel processo di selezione come anticipato prima io assolutamente non sono un fautore per eliminare le relazioni umane anzi quello è rimarranno sempre sicuramente si può scremare si possono fare delle domande killer così dette però in un modo un'esperienza sicuramente migliore si può diciamo basarsi su quello che ci dice l'utente fare magari dei piccoli test degli piccoli assessment detto ciò io diciamo l'altro che ti può dare un chatbot ma in realtà qualunque piattaforma con intelligenza artificiale o meno di analisi di questo tipo ti può dare uno scoring un ranking delle persone dicendoti questa persona ha raggiunto l'87 per cento quest'altra 63 detto ciò secondo me poi il lavoro del recruiting andare ad aprire uno e uno che cosa vedere cosa significa quell'87 per cento si possono anche pesare diciamo le risposte nel senso che se tu mi dai la risposta corretta a una domanda che per me è molto importante si può dare un valore maggiore rispetto alle altre quindi si può fare assolutamente ritengo che comunque l'umano debba poi andare a intervenire e metterci un po del suo perché altrimenti questa diciamo la tecnologia non ci aspettiamo che faccia assolutamente la nostra parte soprattutto quella parte di umana che rimane differenziale nel lavoro delle risorse umane detto ciò secondo me è uno strumento molto potente che può invece estendere la comunicazione e l'interazione a tutte quelle persone che per motivi oggettivi di tempo e anche tra virgolette di diciamo efficienza non si possono raggiungere umanamente ok io direi che ringrazio tutti per l'ascolto come detto risponderemo a tutte le domande che ci sono soltate fatte nei prossimi giorni manderemo il tutto se avete poi diciamo voglia diciamo di interagire direttamente con con noi i nostri contatti verranno appunto inseriti in questa mail che vi rimanderemo potete chiedermi tranquillamente il contatto su su linkedin se volete possiamo scambiarci assolutamente delle interlocuzioni riguardo al chatbot o riguardo anche alle chart tech in generale perché poi oggettivamente oggi abbiamo parlato di soluzioni relative appunto intelligenza artificiale machine learning conversazionale ma ci sono anche tante altre soluzioni che ad oggi aiutano l'ufficio risorse umane ad essere sempre più competitivo e più efficiente e data driven ringrazio ancora tutti ringrazio ivana ringrazio silvia e tutte le persone che diciamo ci hanno aiutato per la costruzione di questo webinar è il primo di una serie di webinar che andremo a fare nei prossimi nelle prossime settimane vi terremo aggiornati nel senso che vi manderemo l'invito eventuale agli altri webinar mi farebbe piacere ovviamente se voi riuscite a partecipare anche ai prossimi grazie mille e buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.